Purtroppo nelle ultime due settimane c'è stato un incremento esponenziale dei casi dei contagi e anche dei ricoveri in ospedale e quindi ci troviamo a dover fronteggiare una situazione molto più critica anche di quella che abbiamo visto nella prima ondata. Era stato il primario di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo qualche ora fa a raccontarci della sofferenza che sta vivendo in questo momento l'ospedale San Donato di Arezzo in merito alla possibilità di accogliere altri pazienti Covid. Dunque l'area Covid conclude il reparto di pneumologia che ha 28 posti letto e praticamente siamo a saturazione nel secondo piano. Al primo piano c'è il reparto di malattie infettive che praticamente tutto Covid è stato il primo a essere saturato a 40 posti letto e anche la nuova struttura al piano zero che è un'altra area Covid di 17 posti letto è a limite alla saturazione. Sicuramente abbiamo altri margini ancora di riserva ma se la situazione epidemiologica è un incremento esponenziale, con questa rapidità, neanche avere un numero di posti letto impensabile potrà permettere di dare assistenza adeguata a tutti. Quello che spaventa è soprattutto la tipologia di paziente che oggi accede al San Donato per le complicazioni dovute al coronavirus. In questa seconda ondata ha colpito molte persone senza patologie concomitanti, senza morbidità. Abbiamo pazienti anche molto giovani purtroppo con polmoniti molto gravi che cerchiamo con tecniche di assistenza respiratoria non invasiva, con il casco, con la maschera, con alti flussi di evitare disperatamente il peggioramento e l'arrivo in terapia intensiva, all'intubazione. Ma la risposta maggiore che possiamo dare a questa epidemia, oltre ovviamente allo sforzo di noi medici, infermieri, osso, fisioterapisti, e ringrazio tutti, diciamo anche altri non specialisti direttamente in causa che stanno contribuendo al supporto in questo momento difficilissimo, la risposta la potete dare tutti voi cittadini nel rispettare le norme, nel voler bene voi, voi stessi, i vostri familiari, i vostri cari. L'appello dei medici e di tutto il mondo sanitario è e rimane uno solo, uscite di casa solo se strettamente necessario e fate la massima attenzione anche nei contatti all'interno della famiglia. Abbassare la guardia in famiglia, tra gli amici, nelle attività ludiche, significa far circolare il virus in queste condizioni e portare a risultati di gravità, diciamo epidemiologica, che nessuno si immaginava, io personalmente, ma nessun altro poteva immaginare il dover fronteggiare la propria vita professionale, vita anche umana.